La clinica di riabilitazione toscana insieme alla fondazione Gianfranco Salvini ha attivato una borsa di studio in memoria di una persona molto importante del professor Bruno Dei, molto importante per la riabilitazione del Valdarno, per la clinica di riabilitazione perché è stato uno dei accompagnatori fin dall'inizio, fin dalla sua creazione, fin dalla nascita fin dal 1999 appunto della clinica di riabilitazione toscana, sempre presente nel collegio sindacale che è prematuramente scomparso a causa del covid nei mesi scorsi. Che c'è una borsa di studio sulla management dell'economia sanitaria estesa a tutta Italia e che sinceramente ha già un valore triennale e poi vedremo se potremo ancora continuarla. è un momento importante anche di memoria e di ricordo di questa persona che a nostro avviso per il Valdarno ha dato molto.